Salve a tutti ragazzi sono sempre io Raffox24 e vi do il benvenuto a questa nuova parte di Tomb Raider Ok proseguiamo il viaggio Spera che è la 3 BAM Ok Prendiamo l'arco Ok sta cosa non mi convince Oh cazzo Porca troia Lo sapevo io Cazzo la rattenta La rattenta Mi devo buttare Ah no Vai corri Bravissimo Mamma mia Cazzarò Corri 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 Porca traia Cazzo la fai saltare Oddio è qua Mamma mia Cazzo corri 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 Porca Porca troia Ecco Ecco Eeeh Boom headshot Bitch Oh cazzo Porca troia Si Ma questo Ma questo non muore Ma questo non muore No Si deve Si deve scaricare No Si deve scaricare Ok Ok Wow Vedete Non fidarsi mai dai nemici Si Si un attimo che io devo controllare se ci sono cose Vediamo Ok Aspetta un attimo Qui cosa c'è Porca Ma che figlio di puttana Oh madonna che Che mira Bam Cazzo di spavendo Sti bastardi Vai vai Ci deve essere qualcosa Che vendo Ah forse è per aprire il coso Non lo so Un attimo Oh madonna Si forse servirà per suonare la campana Credo Ma spesso lo tiro io giù E quindi Cioè dovrei far scendere sto coso giù Cioè non ho capito Che dovrei far Non ho capito Spera un attimo Chiudi Ah mo va solo di E mo Fa il giro Oh porca Ah Ok Capito Vai Dobbiamo aprire l'altro Vai apri Ok Cadraia Tira Buon match Cazzo Quello Cazzo Mi sa che non è una bella cosa C'è qualcuno Che mi sa spara Fridge E mo Cazzo Spenati Sì ma perché ma non va Eh fammi chiudere sta cosa Wait a seconda Non ci sto capendo più niente Chiudi sto cazzo Ma che dovrei far Non ho capito Che dovrei far Aspetta se le apro tutte e due Le faccio sbattere Apriamo Michele devo far Sbattere due volte Va bene Proviamo Non l'ha lanciato Proviamo A vedere se No 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 Forse aprire anche questa E sbatterla vicino alla campana Così forse che Riesca a cadere Ma non ne sono sicuro Tentare non nuoce Esatto Ok Ecco io lo sapevo Ok Ma che cazzo Parca puttana Corri Oh Oh cristo No No vabbè Dai Porca droa Salta come un coniglio morto Cazzo Corri Oh cazzo Corri Corri Cristo Cristo Oh cristo Oh cristo L'ora resisti Si Ce l'abbiamo fatta Cazzo Bam Cazzarola Bam Cazzo siamo a steffetto Wey Bam Ok Siamo salvi Hello 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 Sam It's Lara It's Lara Oh god Lara It's good to hear your voice Yours to Sam Yours too Sam Is the rest of the crew with you No I just managed to steal this radio off a guard A guard I've been kidnapped I've been kidnapped What? Where are you? I don't know Some old Japanese palace They keep talking about A fire ritual Lara I'm fucking terrified Oh shit Someone's coming I've got ice Sam 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 A fire ritual Like the mural in Himiko's tomb Rath Are you there? I'm heading towards the palace The others are being held there too I'll catch up to you We'll be going together Ok Hanno rapito Sam Per farla diventare la nuova regina Chimichanga Discesa a valle Mica So livellato No Vorrei sapere anche io Stormguard And the sounds they made Almost Inhumane Shit Just listen to yourself Lara Starlet dad It's like They're the rum Sì vabbè basta Ehm Va bene ragazzi Anche per questa parte è tutto Spero che vi sia piaciuta Vi ricordo di lasciare un commento Un mi piace E di iscrivervi al canale Io vi saluto Ciao Ciao